L'archivio Rachele Bianchi ha deciso di partecipare quest'anno alla manifestazione in tour come occasione straordinaria per l'apertura del nostro archivio, come esaltazione dell'arte femminile e inoltre per esaltare la figura della rete, sia come simbolo del nostro stesso archivio che come simbolo di unione con il pubblico. Possiamo scoprire la nostra sede, Palazzo Lombardo, e la nostra mostra, Geometria al Femminile, che esalta la figura di Rachele Bianchi. L'importanza della figura femminile nell'arte milanese pubblica, che oltre all'assalto di Rachele Bianchi, vediamo chi si è giunta all'assalto di Margherita Hach, di fronte all'Università Statale di Milano. Scoperta, ispirazione, rete.